Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. In A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Capannori e Pisa Nord in direzione Pisa, sulla A1 in direzione Bologna, vietato al transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio, sulla Fibili per lavori, possibili disagi tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino, è chiuso lo svincolo di Montelupo Fiorentino, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!